Siamo col mister della Gnadellese, oggi non è stata una bellissima partita e purtroppo nel girone di ritorno mancano alcuni punti in classifica. Sì, rispetto alle tre partite dell'andata, in effetti sì, abbiamo perso a Villa Tavazzano dove l'andata avevamo vinto e abbiamo perso oggi qua dove abbiamo pareggiato. Poi in effetti non è un periodo anche brillante, comunque per quanto riguarda oggi potevamo stare magari un po' più attenti. Loro non hanno sicuramente rubato niente, anzi ero andato a vederli anche in settimana, una squadra organizzata rispetto al girone d'andata e quindi sapevamo che era un attimo difficile. Da canto nostro forse siamo stati meno brillanti del solito e ci sta, prima o poi doveva anche succedere di perdere in casa. Dopo queste partite del ritorno si vede una Gnadellese che pur ben messa in campo è abbastanza quadrata, però non ha più il piglio dell'andata e non riesce più a pungere. Effettivamente fa fatica ad attaccare, vuoi magari per la poca brillantezza di alcuni elementi. Sicuramente i risultati arriveranno, anche se chiaramente che fa tutto, che fa classifica, sono i punti. Sì, che sono i punti e come è vero anche che probabilmente le squadre ci conoscono. Se il girone d'andata eravamo quelli che eravamo un po' la sorpresa, oggi probabilmente mancando un po' di brillantezza e mettendoci anche che ci conoscono meglio rispetto all'andata, qualche difficoltà in più ce l'abbiamo. Sta a noi, dobbiamo metterci un po' più di attenzione sicuramente perché dispiace anche perdere le partite come questa che, ripeto, a casa Butano non ha rubato niente o pareggiare domenica scorsa all'ultimo secondo quando potevamo benissimo gestire la palla in un'altra situazione. È un periodo che gira così e va bene, prendiamola così, bisogna pensare all'altra partita.